Mi raccomando, segui bene, ok? Sì Così 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 Poi così E poi così Così, così Così, così, così Ok, come va? Bene, ho fatto la zeta di isola Eh, Nina, in realtà il disegno era questo Cioè Il libro di Nina e Matti, no? Era scontato Non sei così bravo a disegnare, Nina Ma se il portale magico è molto più bello